Macro AS della Toscana del Sud, ovviamente la nomina dei direttori generali spetta alla Giunta però la Commissione Sanità ha dato un parere non vincolante però nel quale abbiamo visto diciamo spaccarsi il Partito Democratico e in questo caso sulla persona proprio di Enrico Desideri. Ma più che spaccarsi il Partito Democratico ho visto che c'è stato un consigliere del Partito Democratico che adducendo a situazioni specifiche che ovviamente io non conosco ha ritenuto di non dare un voto positivo cosa che invece compattamente hanno dato gli altri consiglieri del Partito Democratico. Io penso che Enrico Desideri sia una risorsa, sia una ricchezza, una garanzia per quanto riguarda la possibilità di avere un'integrazione di un'area vasta che è così ampia e così articolata e credo che questo voto che fra l'altro ha visto appunto un'unica defezione da parte della maggioranza non sia assolutamente una valutazione di merito negativa, anzi credo che Desideri goda della stima della giunta regionale, in primis dell'assessore che lo ha proposto ma anche complessivamente della maggioranza che governa il Consiglio regionale. I tempi per la nomina? I tempi saranno ovviamente molto brevi e questo passaggio da parte della Commissione era come appunto lei ha detto un passaggio obbligatorio ma non vincolante e comunque a questo punto è avvenuto e credo che saranno questioni di giorni se non di un paio di settimane.